ben tornati ragazzi su despa istra io sono ruiz demente e questo è isaac cinese attraverso il canale è che siamo tutti i piedini non fanno così i cinesi non fanno così dove l l l ha insegnato pure te nel tuo video anzi nel mio non si va molto meglio sono tornati su despreste è questa la parte 13 il 13 numero che porta sfiga di saposa mia proezbo spaita post fight come boss fight scherzo non ho fatto un ragno io ti erano un altro ragno attento un ragno che cammina su dei piedi che non capace sono un bel po' oddio è volato che cazzo è successo spesso un'arma così tanti hai visto il tizio che tipo volato meraviglio proviso andiamo 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 sennò qua moriamo ok ma dove bisogna andare marca vacca o sta scendendo un po' velocemente seguiamo il tira piedi la testa l'aspetto dovuto sistemare post mappa si sta bene io costo ricordi alberta nonosti problemi ma cosa faccio aiutare un calcio sono calcio prende questo e questo e questo ci ha avuto io comincio a se ce ne troppi isa di qualcosa ok e giustamente è anche giusto come qua cos'è quello perchè va da rallentatore ecco da curato quanti cazzo sono vieni qua non più vita amato cavolo pochissimo a medico diamo veloce a seguire azetti ancora vivi un stato detto vetro veloce gioco a tavolo pro la b l'uomo costruzzi stivano pure i colpi prese della centrale si va rallentato andiamo 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 la certa girati o se chiesate il tempo 17 centigrani a spero sia un punto di salvataggio no il macellaio 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 mese dove sono sono diretti a un centro di ricerca sul peggio c'è questo qua c'erano delle tute termiche no 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 deciso di restare sotterraneo potrebbero l'ascensore è andato lì abbiamo sentito qualcosa che si muoveva da sotto non morire non morire c'è un generatore c'è un generatore l'ho visto a forza di qua e di qua dove si è qui resisti resisti lontano ho ottimato il generatore adesso è caldo e vivo la scena scena torino dove dobbiamo lasciare il robottino mi sa che lo dobbiamo lasciare qua fuori lo sai vado fuori oh cavolo oh cavolo ma dove sei come hai fatto andare lì cos'è sta roba tremato il tutto non hai sentito prurizzo si ho sentito benissimo anche su un volume del cuffio basso ho sentito benissimo aspetta andiamo fuori andiamo fuori prisco voglio mettere robottini io e io ho già nessuno in attesa prurizzo non posso andare da solo arrivo no aspetto sbaglio di qua veloce prurizzo veloce in attimo per favore ok tutto il tempo del mondo ok no perfetto mettiamo il robottino dove va messo com'è il piano di sopra aia ancora questo è quello di prima la ci ha regalato anche un medikit fantastico allora mettiamolo qui dove ci viene chiesto di metterlo po 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 toto ci facciamo un viaggetto magari abbiamo perso qualcosa che non abbiamo preso prevista controlle in giro tipo la sotto vedi ah guarda quante robe ecco qui perfetto ecco qui perfetto ecco qui perfetto eh che cazzo succede beh beh che lo lascio qui ecco qua c'è un tizio c'è un tizio che non mi fa di animare la 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 andiamo via andiamo via da qui non mi piace aspetta il robottino veloce prurizzo c'è un altro là in fondo nasce un robottino arrivo aiuto perfetto andiamo la torniamo dentro va ora qua cosa ho trovato qualcosa che te non avrei mai ma andiamo sennò qua ci moriamo di nuovo la a posto andiamo ma io c'è un altro robottino ma perché non ho lasciato anche quello te lo regalo cercate il cadavere deve servire col porto guarda qua c'è qualcosa da me si ho visto di qua un'altra cosa è un blu bianca verde e rossa oscura di qua di qua no tu stai la testa e la testa la pruizzo no vedi qui c'è qualcosa ci sono degli ingranaggi te li passo io pruiz vai pruizzo che no la testa che è la sua città no non cala non ammente questo posto poi tu se io ho pagato ho pagato l'ingranaggio pruizzo funziona si è pagato questi ingranaggio è vero app ah qui c'è un altro terminale se vuoi provista ci compriamo qualcosa si direte ora è da tanto che non prende esatto scopo un attimo quale video video arrivederci ci sentiamo la prossima ciao ciao a dopo rieccoci qua col video e finalmente poi abbiamo fatto nuove modifiche a abbiamo il baiolo di corso che ci vuole uccidere ok ho vici e mi sono un'altra per me dopo l'abbia foto modifiche allora io ho modificato la maplosmo non è più verde a un colore ancora più più io invece ho un'asso finita o l'antenina sopra la mia arma la vedi provisciare di la vedi in sera di raggio la tua arma scusa gli auguro non ho un'altra carta canale 5 l'alato da 9 tanti se poi ho preso questa ho creato sono fucile che il campo di forza speriamo sia utile come cavolo stai guardando mamma mia davvero attra anche io non ho il casco anche io non ho il casco e che succederà quando sarà soltanto un altro cadavere che farai quando avrai perso ciò ma non tieni di più dimmelo non lo so a proizze cosa mi chiedi ste cose perché mi chiedi la conversazione in questo modo già matto sono io oddio che io sto posto mi ricordo un pezzo del primo di uno dei capitoli del primo del space del primo quale che me lo ricordo anch'io forse cosa cosa cazzo è uno zombie di half life lol occhi aperti ok mamma mia state dormendo sveglia aiutatemi provizia vado a vedere qui ho trovato una base compatta standard sono roba della terza guerra mondiale se che si possono vendere quelle cose no qui non c'è niente provizio andiamo di qua guarda qua come fai a non notare certe cose cosa gel gel per capelli lol salvo tagli credo che ci sia un video qui ok no occhio occhio bris c'è qualcosa ce ne sono tre di quelli staso aspetta 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 che sembrano ok ok ce ne sono altri aiuto mi sto prendendo aiuto 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 isaac le mamma da la faccia fatto fatto mamma mia che cosa sono sti tizi non lo so ma fa un paura vedo che prendo le munizia qua momenti mi cavai gli occhi dovrei avere i cosi che mi prende le munizioni automaticamente invece non fa niente lol niente perchè c'è un frigorifero aperto dopo si lamentano che sprecano troppo a corrente dimmi teo oh guarda qua un video registro personale sei mackerman chi ha sono tre giorni che sono nascosto nel buio devo arrivare alla radio chiamare aiuto forse c'è un modo per ingannarli lancerò qualcosa e loro loro andranno a vedere cosa causa del rumore ah e tu oh dio entro il tuo sento calda e fresca sai cosa vuol dire a provis questo? bello che i tizi che stavano qui sono diventati quei mostri strani fermo fermo allora prendi un oggetto sono senza occhi loro prendi un oggetto qualcosa non c'è niente Isaac prendo te allora sai che cosa dobbiamo andare avanti camminando cammina fermo fermo no anzi facciamo così vediamo se trovo un oggetto qualcosa del tipo guarda che vado piano piano vedi che sotto c'hanno le lattine loro loro non hanno gli occhi sento ne basta vediamo trova un oggetto che lo lanciamo vediamo se funziona sta cosa estintore si è estintore il signor estintore è tornato questo puzzle ti fa fuori in un colpo quanto scommettiamo tipo ha funzionato? no peggiorata la cosa? si direi credo proprio di si lontano da me no mi sono al telefono di casa Prince me li stai buttando via faccio bene no? via da me state lontani questa parte da fare sono al telefono eh cavolo ok adesso devo chiamare infatti uno gli risponderà adesso ah ancora basta Prince ma di one shot oddio quanti ce ne sono ancora tanti tanti vai guarda il lato positivo ci danno drop e basta vediamo se posso prendere le lattine no non posso prendere le lattine è una bastardata comunque adesso sappiamo che non hanno gli occhi sti tizi seguono i rumori ma quanta roba bene interessante parecchio ma quanta roba ok cerca di non correre allora cerca di camminare specialmente in sta parte cos'è questo ok questo sarà il nostro la nostra di coi ok ok ma che cos'è quel suono vai a controllare provisca e non mi fido no non è lì vabbè c'ha le cuffie da 3 mila euro e non sente i suoni veramente non c'ho quelli altri mi hanno fatto scoperto mi hanno fatto scoperto mi hanno fatto scoperto posto da the space tra non puoi prendere praticamente niente si è una merda sta questo fattore qua che hanno tolto gli oggetti prendi scala è bloccata dal tuo compagno proizzo è lento un altro un piccolo mi sa che ha fatto un po rumore sai allora si hai fatto un bel po di rumore aspetta allora attivo io provisca allora no si così allora fatta altro che te pro oh cavolo eh questo fa rumore eh no dai no ma guarda il lato positivo ma sono spini questi sono spini tolti tolti no no oddio oddio perchè non l'ha preso stasi ok allora dobbiamo passare con la stasi io vado pruiz no non ci vado non ci vado non ci vado ora pruiz ora corri 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 ok no vado vedere se c'era qualcuno quasi ma qui non c'è niente stasano appena arriva fino in fondo aia ma che non ho toccato niente aspetta lo stasso di nuovo io stasso aspetta staselo te di nuovo ora pruiz ora vai andiamo 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 bello un altro vabbè questo lo sai fare prezzo impara dal maestro si hai imparato si vai vai fallo fallo si si ti ho dato una mano no cosa stai facendo pruizzo sei fermo a me stiamo qua 50 anni toh si toh la no manca quello lì manca quello lì quello lì no 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 scudo scudo ho visto c'è quello sopra che ne ha due veloce subito no ancora fallo buono ok ah che casino che fanno sti cosi eh preparati ne arrivano altri di più fuori infatti vedi prese sai da che fai casino non è vero per favore quella d'asta ok no quelli sono miei pro ok ok il timer dice che abbiamo finito il nostro il tempo e ora ora però noi faremo così andiamo avanti ancora un attimino per vedere cosa c'è al di là di questa stanza perchè ora sono curioso mai via pruiz corri 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 mamma mia tra l'altro hanno chiesto anche a me di registrare dead space ma io non lo farò mai davvero eh sì ma no perchè se se l'avessi dovuto fare eh l'avrei fatto dall'inizio non adesso proiettuali t sei troppo grazie eh qui no è vero hai risultato ah isa che ora sei offeso basta va qua e con quella tuta d'oro sembri grasso no adesso se ne va qui guarda l'angolo per sempre va bene ti conviene venire a vedere c'è una cosa fantastica no io guardo l'angolo pruizze è verde fluorescente è più bello ti giuro che è verde fluorescente no guarda l'altro angolo allora fai tutto il gioco all'indietro va bene devo fare il gioco all'indietro io ti guido ok andiamo ok andiamo cimmo munizioni sono allo stesso punto perfetto sembra che questo sia un 6 point ti ricordi dovrà ma ciao avviso di sicurezza tutta termica necessaria a questo punto cambio tutta ok ma come tutta termica ma lieto dove abbiamo iniziato pruizze è vero si non ti ricordi mi sta mettendo tutta termica devi mettere anche te questa cassa pruizze non te ne ricordi pruizze questa cassa questa cassa pruizze la ricordi questa cassa volare aiuto paranormal cassa questa te la ricordi era lì lì non te la ricordi all'inizio che non l'abbiamo presa evviva ho la tuta termica la metto anch'io a sto punto tutta termica è stata sbloccata cambia tutta vai posso anche potenziale miglia tutta termica eccola qua la mia è d'oro siiii non sarò più il bionico rosso nooo 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 si il bionico rosso nooo non puoi morire così nooo sei visibile sei di nuovo rosso sei di nuovo rosso guardiamo la maschera guardiamo la maschera il bionico rosso è tornato siiii questa maschera fa schifo aspetta un attimo allora n n aspetta che aumento un po' le le la durata del del cosa m m perfetto ora ho più durata del del cosa ho potenziato il mio rig ok ti pregunto ma quanto dura guarda quanto dura guarda gli elmetti della seconda guerra mondiale abbiamo lol ma quanto dura ok guarda quanto dura pruis dura tra potenzialo anche te potenzialo anche te guarda quanto dura ok è finito adesso cosa ciao nooo cosa dovrei potenziale il riga vabbè andiamo hai capito cosa hanno fatto io so che è finita la parte è vero aspetta spiego cosa abbiamo fatto in questa parte lol siamo venuti qua sotto abbiamo fatto tutto il giro perché ci avevano detto che che in realtà era andato a male l'ascensore quindi abbiamo dovuto fare tutto sto giro per prendere le tute termiche per inseguirli in un picco di cucù andiamo prezz ci sentiamo la prossima parte ciao ciao a tutti